Arriva, signora Aram, siamo felici di ospitarla nella nostra pizzeria, desiderate? Ammazza il cameriere, oh! Desideriamo sì! Allora, ok, io ho il contatto, perfetto, bene, oh, ragazzi siamo tutti in pizzeria, sono arrivati gli arancorpi, chissà cosa prende... Voi fate pizza, o se siete in pizzeria, chissà che pizza prenderà, lo so la cameriera, buonasera signora Arancorpi, cosa posso portarvi, che pizza preferite? Voglio una margherita! Non mi voglio più capire una margherita, non una, un mazzo ve ne do! Gli arancorpi! Grazie a tutti!